carissimi amici del canale youtube dentro la notizia anche quest'oggi vi presento alcuni fatti sui quali credo sia importante riflettere il governo francese ha in mente nuove regole per facilitare l'immigrazione economica sarà consentito ai settori in difficoltà nel reperire mano d'opera di assumere stranieri lo hanno anticipato ai media fonti del governo di edouard philippe un decreto secondo quanto si apprende fisserà anno per anno il numero di persone che potranno entrare in francia per lavorare in settori che mancano di mano d'opera senza che il datore di lavoro debba più dimostrare che non riesce a trovare mano d'opera di residenti francesi beh speriamo che almeno non ci rimandino più i clandestini e li tengano a lavorare lì che ci hanno bisogno ma dubito ieri al senato è stata respinta la richiesta della lega di informativa immediata del presidente del consiglio giuseppe conte proprio sul caso ilva durante la seduta barbara lezzi ha offeso pesantemente salvini con queste parole altro che le menzogne di un capitano dei miei stivali che dice a me torna e vai a taranto è lui che ha annullato i comizi a taranto vada lui a parlare a taranto ex ministro salvini bacioni da taranto dai banchi del carroccio la reazione simpatica di salvini è stata quella di indirizzare dei bacioni alla lezzi poi ironicamente rivolgendosi alla lezzi dice è un genio ma non la capisco meno male che conte aveva invitato tutti compreso se stesso a modellare i termini si complica la situazione in libia con probabili ripercussioni negative per noi putin dopo aver recentemente incontrato macron preme l'acceleratore nella crisi libica al fianco del generale califa aftar nelle ultime sei settimane sono stati inviati circa 200 mercenari russi tra cui cecchini esperti lo scrive il new york times inconfondibile la firma l'uso di proiettili che non escono dal corpo come nell'ucraina orientale e così come dicevamo ieri a testimonianza dell'abilità nel trattare di emmanuel macron il presidente francese è riuscito a convincere il presidente cinese xi jinping a firmare un documento congiunto sull'espressa irreversibilità del patto sul clima di parigi del 2017 patto dal quale gli usa si avviano uscire entro un anno secondo l'iter sul ritiro avviato il 4 novembre con la notifica all'onu è assai preoccupante vedere primeggiare un accolito dell'elite sulla scena mondiale macron ha successo nel trattare con trump putin e ora xi jinping chissà cosa avrà detto ai tre leader mondiali per affabularli teniamo d'occhio la situazione perché macron rischia di proporsi come uno dei leader mondiali a danno dei popoli però ieri conte alla camera ha fatto la sua difesa sul caso fiber 4.0 vi riporto l'intervento a mio avviso più efficace e poi vedremo le nuove accuse mosse a suo carico ecco le parole di conte ho letto che alcuni organi di stampa riferiscono di un incontro avvenuto a milano nella serata del 13 maggio con i leader dei due partiti che poi avrebbero sostenuto il nuovo esecutivo preciso che questo primo incontro evidentemente interlocutorio rispetto al conferimento dell'incarico di governo avvenuto lo ricordo il 23 maggio a seguito della designazione da parte dei gruppi parlamentari avvenuta solo il 21 maggio questo primo incontro dicevo è comunque intervenuto a distanza di giorni dall'accettazione dell'incarico e quando l'attività di studio della questione giuridica e di elaborazione del parere era ormai terminata a conferma di questo preciso che il parere è stato consegnato il giorno dopo il 14 maggio vediamo ora i nuovi elementi che metterebbero in difficoltà al premier conte quando mincione che era in corsa per la conquista di rete lite perde la battaglia in assemblea si vede costretto a tentare la carta della golden power rivolgendosi giorni dopo essersi rivolto al governo gentiloni ad un noto ed affermato studio legale cioè agop gianni origoni grippo cappelli and partners mincione non ha mai rivelato quel nome ma in un'intervista al corriere dice di aver chiesto una prima consulenza a uno studio legale che però non andava nella direzione da lui auspicata insomma quello studio legale di cui mincione non fa il nome e dovremmo chiederci perché gli avrebbe dato un parere negativo sulla golden power per rete lite ma mincione non sta dicendo la verità nell'immagine potete notare il documento di gop che il 9 maggio aveva espresso un parere che andava nella direzione auspicata dal finanziere italo londinese la consulenza riporta questa conclusione ai fini del presente memorandum abbiamo assunto che la società detenga asset strategici nel settore delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto golden power ci si domanda perché non sia stato utilizzato il parere positivo di uno dei principali studi legali e ci sia invece rivolti a uno sconosciuto avvocato pugliese mincione sostiene che il nome di conte gli era stato fatto dagli stessi avvocati dei quali non aveva però voluto rivelare l'identità e perché aveva qualcosa da nascondere in realtà il nome di conte era noto a tutti gli osservatori politici come elemento di punta del movimento 5 stelle e quindi mincione non poteva non sapere che conte era in trattativa per palazzo chigi conte sostiene che all'epoca non poteva prevedere il suo futuro politico ma non è vero visto che il 13 era colloquio con di maio e salvini per discutere della sua nomina premier ovvio ritenere che quest'incontro sia stato preceduto da alcuni contatti telefonici e fissato con un certo anticipo visti gli impegni dei tre riconsideriamo cosa dice il premier nella sua difesa questo primo incontro dicevo è comunque intervenuto a distanza di giorni dalla l'accettazione dell'incarico e quando l'attività di studio della questione giuridica e di elaborazione del parere era ormai terminata a conferma di questo preciso che il parere è stato consegnato il giorno dopo il 14 maggio qui conte è vago sulle tempistiche asserisce di aver ricevuto l'incarico giorni prima dell'incontro del 13 maggio ad ogni modo è credibile pensare che conte abbia ricevuto l'incarico da fiber dopo che il suo nome era stato indicato come membro del futuro governo e addirittura possibile premier curiosamente la fattura riporta la data del 29 maggio pochi giorni prima del giuramento di conte da presidente del consiglio il 2 giugno e immediatamente prima del primo consiglio dei ministri utile in cui il suo governo varerà appunto la golden power su retelit in data 7 giugno un altro particolare da notare è che il 20 aprile 2018 raffaele mincione sottopone la questione della golden power su retelit al governo gentiloni se mincione avesse ricevuto un parere positivo sull'applicabilità della golden power evidentemente non avrebbe avuto bisogno di rivolgersi a ben due avvocati 20 25 giorni dopo in conclusione la risposta alla domanda perché mincione pur avendo in mano un favorevole parere alla golden power di un affermato e noto studio legale ha commissionato il parere a conte un avvocato semi sconosciuto per usare le parole del financial times e che ci sia sotto qualcosa di sospetto lo testimonia il fatto che mincione ha mentito facendo credere che il parere del noto studio legale goppe interpellato per primo fosse negativo fin dai tempi antichi è noto il saggio detto un regalo può corrompere il cuore per quanto riguarda il premier da avvocato certamente sarà benabile nel trovare argomenti a sua difesa certo è che i dubbi sollevati dai fatti e dalle tempistiche rimangono e chissà che col tempo non emergano nuovi fatti carissimi amici del canale youtube dentro la notizia se desiderate seguire insieme a noi gli eventi che influiranno sulla nostra vita iscrivetevi al canale youtube dentro la notizia condividete i video e se lo desiderate potete sostenerci con una donazione un abbraccio dal vostro roby